Ora vedremo come caricare un file all'interno di un post. In questo caso stiamo utilizzando uno smartphone con sistema operativo Android. Io ho il compito realizzato dal docente Luca Battista, il quale mi ha mandato anche dei file aggiuntivi, ma io ho realizzato il mio file con un altro editor di testo sempre disponibile tramite cellulare, abbiamo visto appunto nel tutorial precedente Google Documenti, vado a visualizzare il compito e sotto il compito posso aggiungere un commento e allegare il mio elaborato. Scrivo ecco il mio elaborato, dopodiché seleziono la graffetta che si trova sulla sinistra e qui scelgo la voce file da dispositivo. In questo modo posso aprire un file della memoria interna del telefono oppure se possiedo diverse cartelle di cloud, in questo caso io ne possiedo solo una, cioè la cartella di drive che si trova nella rete, seleziono dal mio drive il file che ho realizzato. In questo caso si tratta di prova documento formato docx, lo faccio caricare, lo visualizzo in basso che è stato caricato, seleziono la voce messaggio e in questo caso ho inviato il mio documento al docente. Ho completato il mio lavoro. Grazie per l'attenzione.